buongiorno a tutti 706 buongiorno Lorenzo Masieri buongiorno a Fabio buongiorno martedì 10 ottobre ben ritrovati qui su Cristal Radio ben ritrovati a Good Morning Milano eccoci siamo tutti pronti siamo pronti per partire vi ricordiamo subito in partenza che poi ce lo dimentichiamo a volte quindi è giusto farlo perché poi mi tirano le orecchie dal piano di sopra 3317853555 il nostro numero di whatsapp a cui potete scriverci condividere con noi la vostra colazione la vostra mattinata il vostro viaggio verso la vostra meta spero conosciute però non è che riusci di casa e vai a caso ma magari sì qualcuno ogni mattina esco e vado a casa da qualche parte chi va a correre chi va a correre diteci che problemi avete perché andate a correre qual è il vostro problema ma soprattutto chi corre la mattina chi va in palestra la mattina vabbè la palestra sveglia la mente ma il palestra comunque sarà il calduccio ma è vero quello sì almeno si era chiuso beh ma perché fa freschino fuori come è stata la ciclettata di questa mattina come è stata nemmeno tanto nemmeno tanto dicono che settimana prossima arriverà finalmente l'autunno ma chissà noi invece siamo qui come sempre tutte le mattine dalle 7 alle 9 per raccontarvi un po' la città di Milano a breve prenderemo i giornali e il buon masiere ci racconterà anche un po' quello che titolano e quello che pubblicano ma appunto i protagonisti della mattinata siete sempre voi con il nostro numero di whatsapp 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 noi siamo qua vi raccontiamo tutto quello che succede a Milano lo facciamo per due ore ospiti rubrica un po' di tutto come sempre la mattina insieme a noi qui su cristal radio e in diretta anche su Milano all news diretta video anche eh sì 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 e la pazza musica è quella di marco mengoni e dell'od qui su cristal radio ben ritrovati ben tornati appunto per l'ennesima mattina insieme a noi ma è sempre bello appunto essere nella vostra routine sai caro lorenzo io dico sempre che ringrazio chi ci ascolta no perché fa un un gesto molto carino verso di noi no nel senso che ci inserisce dice che qualcuno ascolta il nostro no ci inserisce nella sua routine quotidiana certo cioè loro la mattina potrebbero fare tutt'altro e invece la mattina mentre si lavano i denti mentre bevono il caffè mentre vanno in auto mentre vanno verso il lavoro l'università o quello che è ci inseriscono la loro quotidianità e quindi noi abbiamo una responsabilità verso di loro cioè dobbiamo accompagnarli nella migliore delle maniere a iniziare al meglio la giornata potremmo fare non so del pilates insieme potremmo fare che ne so risveglio muscolare e invece vi risvegliamo la mente con le notizie e con l'informazione appunto che arriva dai giornali locali grazie alla rassegna stampa di lorenzo eccoci vi risveglia la mente per esempio forse esagerato fabio mi permetto di dire vi risveglia la mente perché rinfresca la mente ce l'hanno rubato e si non si può fare allora ieri giornata di sciopero giornata di sciopero come è andata come è andata come è andata come è sempre nì perché tutti chiaramente se c'è la possibilità che si verifichi uno sciopero prendono una macchina come appunto si diceva ieri ma alla fine lo sciopero si è fatto solamente nel pomeriggio quindi nella seconda fascia quella dalle 18 fino a fine servizio in cui sostanzialmente la m1 quindi la rossa e la m2 quindi la verde hanno subito dei disagi hanno subito dei disagi la verde è stata chiusa nelle diramazioni diciamo e la rossa anche interamente poi non so se una volta che è arrivata la notifica a tutti appunto di atm poi le cose sono cambiate in corso d'opera secondo me tutta la fascia comunque è stata interessata e quindi niente chi ha preso la macchina alla fine ha fatto bene ha quasi avuto ragione quasi ha avuto ragione quindi siamo qui a parlare della milano senza auto un quarto d'ora e compagnia bella e poi però devi prendere l'auto perché c'è lo sciopero l'ennesimo sciopero atm con tutte le ragioni nel mondo che possono avere i lavoratori atm però ci chiediamo davvero io mi chiedo dove non ci chiediamo mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire mi domando e mi chiedo se nel 2023 non ci sia un'altra forma di lotta per i lavoratori che fanno un lavoro che dà un servizio alla città questo in più mi chiedo quanto uno sciopero del genere faccia male all'azienda perché lo sciopero deve fare tra virgolette male all'azienda ma se no che senso ha fare lo sciopero non so quanto colpisca l'azienda lo sciopero del genere tanto cosa c'ha perso atm qualche biglietto di qualche turista non credo qualche miglietto di qualcuno che all'ultimo si è dimenticato il formolamento come abbiamo visto la settimana scorsa atm vuole arrivare a fine anno con il 40 per cento dei ricavi dalla gestione di metropolitana estera e lo facessero la salonicolo lo sciopero no scherzi a parte comunque io sono un po cioè sempre ben venga qualsiasi tipo di sciopero ben venga capite il compagno basieri ben venga se si sciopero però io penserei di fare una roba un po più pensate come la dico una roba più più sostanzi cioè più più organizzata c'è non la singola la singola sigla sindacale che tutte le volte magari un venerdì sì un venerdì no riesce a bloccare parte del sistema dei trasporti pubblico milanese ma che ci sia quella bella giornata di sciopero dove tutti bloccati però però una 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 volta ogni sei mesi magari ecco una roba del genere chiaro quindi vedo che siamo abbastanza in linea tutti quanti allora poi dopo di che mi piacerebbe che qualcuno ci raccontasse bene questi scioperi e ci spiegasse davvero le motivazioni anche le motivazioni per cui magari sono così disparate queste sigle così tante volte poi devono fare gli scioperi andiamo invece a vedere il traffico ci colleghiamo con luce verde ermia con super classico una vita che non la sentivo cos'è super classico super classico è la partita real madrid barcellona cioè in realtà ci sono i vari sappi sapevo che era una cosa del genere ma non sapendo quale ero chiesto a te sapendo che ah ok capito quando sai di non sapere allora il super classico è real barcellona forse forse il super classico è river plate bocca giugno forse hai visto che te l'ho buttata controllerei il regia chiedo alla regia di controllare il super tele cos'è il super tele è il pallone bravissimo bravissimo c'è una canzone che chiamava super tele anche mi sa se non mi ricordo male qualcuno l'aveva fatta la canzone sul pallone comunque non parliamo di pallone perché no ma tu lorenzo segui un po' lo sport no allora posso dire io sono ciao sono lorenzo sono interista ma non si può dire radio adesso vengono qua ci picchiano quelli dell'altra squadra io mi unisco chiunque venga io mi unisco ricordiamo che il buon fabio disse perché ci sono ah no non hai detto te però avevi confuso i tifosi del newcastle con quelli della juve in giro invece erano quelli dell'interista ma ultimamente seguo un po' meno e oggettivamente non riesco ad arrivare al secondo tempo delle partite ecco vedi perché la pappa per me cade prima ma sì ma perché è uno sport pallosissimo diciamoci dai scusate sarò qualunquista e un po' anche americano in quello che sto per dire no ma come può guardare uno sport che può finire 0 a 0 basta ancora questa cosa qui questa cosa qui non mi andrà mai giù una roba che dicono tutti i tennisti ma io sono un padelista ricordiamoci l'ho perso questa settimana vabbè comunque comunque ci rifaremo caro il mio cristian prima o poi ti batterò ecco uso uso privato di mezzo privato perché vabbè siamo privati questa radio quindi possiamo allora ritorniamo seri perché come ogni mattina purtroppo anche questa mattina anche questa mattina c'è anche questa mattina dobbiamo dare notizia di incidenti avvenuti ieri qua vicino in piazzale Axum all'altezza di cioè tra il piazzale e via Capecelatro un monopattino con due ragazzi è stato investito i due ragazzi sono stati investiti mentre erano a bordo di un monopattino e trasportati all'ospedale San Carlo qui vicino non in gravi condizioni ma soprattutto due pedoni investiti da una moto in viale Tibaldi esattamente all'altezza del municipio 5 del comando dei vigili anche in questo caso la donna di 49 anni e l'uomo di 35 sono stati trasportati in codice giallo non in pericolo di vita è l'ennesima situazione sulle strade ma infatti no l'altra task force dicevamo ieri sulla sicurezza sulle strade esatto sei persone che faranno capo cioè faranno capo è brutto dire così però funziona sempre funziona così a Marco Mazzei della lista sala da sempre sensibile sul tema colgo già l'occasione per dire che nell'ultima mezz'ora la mezz'ora dell'ospedale forse anche un peggio di più ci sarà un consigliere ai nostri microfoni il consigliere Valerio Pedroni del Partito Democratico che è tra i primi firmatari della Milano 30 all'ora e quindi parleremo anche lui visto che ieri ha fatto un post in cui diceva sono sempre più convinto anche della notizia che abbiamo dato ieri del ragazzo occidente tutto esatto sono sempre più convinto che quel tipo di ordinanza debba essere fatto e sia l'unica soluzione e quindi ne parleremo anche con lui ma anche di tante altre cose la questione di sicurezza Franco Gabrielli eccetera eccetera quella cosa lì ti ha colpito questa cosa qui di Gabrielli ma è che era commissario no non era commissario no non usavo la parola commissario infatti io voglio chiedere quello perché allora ci sta che la destra in consiglio dica alla fine è stato commissariato Granelli ok ma la sinistra cosa ne pensa dipende a chi lo chiedi vogliamo chiedere a lui Radio Carlo Monguzzi c'è già qualcosa su Monguzzi però dopo volevo ah ok no no chiediamo dopo chiediamo dopo passiamo dopo insomma dipende da chi lo chiedi no bisogna eh sì però se lo chiedi al sindaco ti dice anche il pericolo sicurezza a Milano non c'è quando oggi anzi ieri pomeriggio è uscito il report annuale del sole 24 ore poi vabbè adesso in questo caso sai che i titoli sono tutti Milano la città con più reati eccetera poi chiaramente bisogna andare un po' a interpretare i numeri io credo che se guardi il numero assoluto è normale che Milano e Roma siano le città con i più alti reati sono tre milioni da una parte e due milioni dall'altra cioè ci sta nel senso più gente metti più reati eccetera dopo guarderemo per bene come dire Milano è la città con più gente con i capelli lunghi eh grazie no chiaramente sarà tutto proporzionato alla popolazione comunque dopo andremo a vedere nel dettaglio l'indice della criminalità secondo il report del sole 24 ore dopo lo guardiamo per bene continuiamo con un po' di musica questo è un classicone non è un super classico è un classicone è un classicone questo prima era super classico invece questo è un classicone difficile da leggere ma ci provo perché non ci vedo sono i ciambawamba giusto? ciambawamba con tumfimping tumfimping con pim pum dai va bene comunque no ciambawamba su Crystal Radio Donatella Rettore con il Cobra 1980 pensa nascevo nascevi nascevo quell'anno allora 7 e mezza 7 e 32 minuti anzi in questo momento cosa dicono i giornali? cosa ci raccontano ancora? allora ieri abbiamo detto che no forse non l'abbiamo detto in diretta non l'abbiamo detto che non l'abbiamo detto però ci sarà magari qualche che l'avremmo detto ma tu sai cosa sto per dire? no che abbiamo detto che qualche volta abbiamo detto che arriverà magari una schiacciettino eccetera è iniziata la Milano Digital Week è iniziata la Milano Digital Week e ieri nel corso della Milano Digital Week è stata presentata la piattaforma Welfare Intelligence leggo il posto di Lamberto Welfare Intelligence sostanzialmente è una piattaforma leggo ciò che scrive Lamberto Bertolè assessore appunto al welfare e salute al comune di Milano è una piattaforma in grado di analizzare mappare i bisogni sociali delle cittadine e dei cittadini di Milano per meglio indirizzare le prestazioni di welfare nei vari quartieri sostanzialmente penso sia una sorta di piattaforma per dei feedback sì ma buono fa parte diciamo della smart city credo non so c'è tante gente che rispondono agli impulsi sì quel processo di digitalizzazione applicato a un bisogno sì a un bisogno collettivo diciamo e cosa potremmo fare? per migliorare il welfare l'hanno presentato quando si presentano le cose dai di tempo un passo importante che ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo di un welfare territoriale sempre più capace di fornire prontamente servizio a tutte le persone che ne hanno bisogno tutto chiaro? va bene vediamo è beneficio del dubbio è beneficio del dubbio sai che mi piace inzigarti su queste cose no? perché tu sei ancora un giovane che crede nel giornalismo e tutte queste cose e poi leggi queste notizie e ci credi ancora? sì che ci credo bisogna vedere cosa succede va bene va bene sono curioso sono curioso bravissimo la curiosità è fondamentale bisogna sempre essere curioso la curiosità è il sale della vita noi siamo lo zucchero nel caffè come si diceva ieri ma la curiosità è il sale della vita come diceva che poeta guardiamo lo sposo adesso va bene ma stavo pensando come diceva l'Igabue ma quello era il sale della terra no come diceva la pubblicità nel noto ma vai fa niente andiamo avanti cantina di vetro domestici andiamo avanti Regione Lombardia stanzia 14 milioni di euro per incrementare il numero di alloggi da affittare a prezzo calmerato a famiglie che non possono accedere alle graduatorie oh meno male continuano gli sforzi della Regione Lombardia ha spiegato l'assessore Paolo Franco alla casa e all'housing sociale della Regione Lombardia per aumentare e migliorare la capacità abitativa pubblica nei mesi scorsi abbiamo dato il via alla Missione Lombardia progetto ambizioso che riguarda non solo Milano ma tutta la Lombardia per il quale abbiamo chiesto il coinvolgimento anche delle istituzioni abbiamo attivato una serie di cantieri senza precedenti siamo sicuri di poter ottenere risultati importanti anche in termini di efficientamento energetico e tagli di emissioni riporta Milano Today insomma notizie buone diciamo finalmente sì sì qualsiasi tipo di intervento per cercare di evitare di far esplodere se non è gesto di mitigare almeno un minimo esatto la situazione insomma ben vengano e poi vabbè però ci arriva lo shopper vieni tutti in macchina no scusa niente da questa piccola poi dopo parleremo anche di un altro shopper ah sta arrivando un altro shopper no 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 allora prima di tutto facciamo una bella cosa un po' di musica quella buona quella bella quella che si trova qui su Crystal Radio 96.2 FM Da Plus sito internet applicazione iOS quindi se siete usciti di casa non potete ascoltarci perché ci ricordate dal computer tac autoradio oppure app e continuate perché adesso arrivano i Depeche Mode con My Favorite Stranger Depeche Mode My Favorite Stranger 2023 dall'ultimo album che Memento Mori appunto il buon Lorenzo stavamo commentato che un disco insomma da cui sono uscite già due o tre hit davvero interessante non passano mai di moda se volete prendere i biglietti per i Depeche Mode sono finiti sono finiti quindi se volete prendere i biglietti stampateveli in casa o disegnateveli vedete se vi va bene Depeche Mode al forum cosa fai? però bello deve essere molto più che San Siro e lì c'è sempre la diciamo lo spaccato sociale tra chi preferisce il grande evento il grande concerto eccetera in cui non senti niente a San Siro e per un'era che San Siro non l'hai fatto per i concerti ma infatti non è che non ce l'ho con i grandi eventi o gli stadi ce l'ho con San Siro che non l'hai fatto per i concerti cioè si sente ha un'acustica pessima sì sì un forum che non nasce per i concerti comunque negli anni ha sistemato e adesso finalmente c'è una bella acustica eh purtroppo per l'acustica non sono tutti l'arena di Verona eh no diciamo che l'arena di Verona è stata costruita per quello per quello però bisogna sempre tempo a andare a costruire a bucare anche San Siro a fare un'arena di Milano se volendo si potrebbe fare cioè come dire però no cosa dicono i giornali? abbiamo anticipato il fatto che anche oggi parliamo di scioperi parliamo di scioperi perché c'è la doppietta alcuni giornali titolano ieri sciopero del trasporto pubblico non solo ATM proprio per l'Italia e oggi sciopero dei tassisti abbiamo già riportato in nelle scorse settimane che per qualche ora i tassisti hanno incrociato le braccia soprattutto a in zona stazione centrale causando chiaramente qualche disagio ma oggi è una cosa molto più strutturata perché oggi 10 ottobre si fermano i tastisti aderenti all'USB leggo Rai News per protestare contro il cosiddetto decreto legge asset approvato la scorsa settimana dal Parlamento che introduce la possibilità di ampliare le licenze fino al 20% di quelle attualmente in vigore l'unione sindacale di base dice viene abrogata ogni norma che prevede una programmazione territoriale il ministro del Made in Italy e non mi ricordo ormai ormai è conosciuto come ministro del Made in Italy Urso lo definisce sciopero incomprensibile sciopero incomprensibile così lo definito un ministro esatto che un ministro dica sciopero incomprensibile quello è eh questi si incazzano ancora di più adesso te ne fanno un altro domani giustamente va bene però c'è un'altra notizia notizia di colore notizia di colore esatto adesso torniamo un po' sulla nostra vera notura ossia quella del cazzeggio perfetto notizia di colore leggo Milano Today si aspetta che ti dico poi ti dico anche vai 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 leggo titolo a Milano il villaggio delle meraviglie di Natale ingresso gratis tra parentesi occhiello tra le novità di quest'anno ci sarà la presenza di Geronimo Stilton allora io ti dico mancano 75 giorni di Natale per mi dire e io sono contentissimo che di giorno in giorno questo numero diminuisca perfetto quindi ti piace il Natale se no saremo in curioso caso di Benjamin Button quindi comunque ah no pensavo fossimo il Grinch che non mi piace il Natale no no mi piace molto il Natale non vedo l'ora non vedo l'ora che ci siano i vari villaggi natalizi che ci siano le varie piste da pattinaggio eccetera eccetera che bellezza se poi c'è Geronimo Stilton io ho la firma di Geronimo Stilton e lo conosco ma cosa c'entra con il Natale l'hai conosciuto anche aveva già suscitato diverse reazioni in redazione come è stata la vostra conoscenza ma non mi ricordo era uscito uno di quei libri sai quelli che puzzano profumano come puzzano tu non lo sai queste cose io Geronimo Stilton non è roba mia cioè nel senso non è roba della mia generazione una quindicina d'anni fa anche di più Geronimo Stilton cioè Geronimo Stilton non so qual è la casa di Geronimo Stilton no lui lui il topolino scrive i libri non lo sai la casa di Geronimo Stilton pubblicava dei libri Geronimo Stilton li pubblicava li scriveva andava a attaccare le pagine una a una pubblicava dei libri in cui pagina per pagina c'erano degli odori c'erano dei rettagoni sicuro che lo li usavano in casa tua per fare altro poi ti li davano no no fa troppe peronate poi si pulivano sta sicuro c'era tipo l'odore si parlava che ne so del petrolio cioè non del petrolio magari veniva citato il petrolio e c'era l'odore a disposizione appunto sul prezzo del petrolio nel Medio Oriente e Geronimo Stilton ti faceva sentire quanta puzzata dava la sua ricetta dava la sua ricetta per un mondo senza combustibili vabbè boh non lo so secondo me gli hai letti secondo me ti facevano in casa io conoscendo dove arrivi secondo me prendevano il capitale di Max e lo infilavano dentro a Geronimo Stilton profumi comunque vabbè cerca cerca tu cerca intanto noi andiamo avanti con un po' di musica perché è arrivato il momento di Coetz e Fra Quintale con Che colpa ne ho ah poi pensa 33178535555 Marilena ci dice che ricordi quindi non eri l'unico per i libri che pensavano in casa è vero è vero è vero quindi anche Marilena ci dice chissà adesso che chi li ha ancora ma io le avrò da qualche parte che schifo sono diventati a parte che ora non rispetterebbero alcuna norma CE per quanto riguarda queste cose ragazzi io sono cresciuto col Crystal Ball il primo Crystal Ball e sono ancora qua potete velo raccontare andiamo avanti allora dicevo Fa Quintale Coetz con Che colpa ne ho Coetz e Fa Quintale che colpa ne ho 47 minuti tu le colpe hai e ne hai non è l'ultima notte che mi sono confessato è la prima della comunione ne hai un po' di colpe ne hai un po' di colpe ma magari qualcosa è caduto in prescrizione nel frattempo chissà se anche con le robe di cadere in prescrizione bisogna chiedere al parco sono passato da Međugorje quest'anno com'è andata? non sei andato sulla collina mi hai detto? sono entrato nel campo sono andato piedi su sulla collina fino su in cima sono andato posto pazzesco posto pazzesco sicuramente abbiamo visto soprattutto perché io la facevo a piedi e insomma si può dire tiravo certe tiravo delle imprecazioni per cui forse avevo un'altra visione a un certo punto perché è una fatica pazzesca di fianco a me c'era gente che stava facendo la stessa identica cosa scalza su questa collina che è completamente rocce puntita una roba pazzesca comunque comunque sia che crediate o non crediate io un viaggio a Međugorje lo consiglio a tutti ma in Bosnia Pro ah sì no ma tutta quella zona lì andiamo avanti con un po' di musica e adesso vedi parlavamo di piedi scalzi gente che va su infatti arrivano i cerotti dei Tiro Mancino Lady Mammalade Lady Mammalade la bella mille non ci leggo fino là va bene comunque 1900 qualcosa non è quella famosa di Cristina Ghilera è quella prima questa è l'original l'original one alle 8.08 di oggi martedì 10 ottobre sempre qui su Cristal Radio sempre qui a Good Morning Milano con ancora un po' di notizie poi sta per arrivare il nostro ospite che poi entrerà appunto ricordiamo l'ospite di oggi Valerio Pedroni consigliere comunale appunto dal comune di Milano in quota PD e parleremo di faremo un po' il punto diciamo su sulle aiutami Fabio sul consiglio comunale sulla politica territoriale sulla politica locale sulla politica locale sulla politica locale di Milano anche un po' sulle diatribe che ci sono in consiglio comunale insomma che l'opposizione mi piace perché l'opposizione ormai sta lì e guarda quello che combinano gli altri che litigano tra di loro è bellissima questa cosa sta lì le guardi quando avete finito fateci sapere e poi l'avete a proposito di consiglio comunale vi invito c'è un canale c'è il canale youtube dei consigli comunali e sono in diretta vi invito a vedere qualcosina perché ieri io per segnare qualcosina appunto per l'intervista di oggi ho guardato un po' ed è cioè credevo di certe scene di vederle solamente alla camera dei deputati cioè non certe scene in realtà c'è stato c'è stato un dibattito acceso ieri sul fatto di esporre o meno a palazzo marino la bandiera di israele ok se solo la bandiera di israele di israele o no date i licenti avvenimenti si è trovata come quadra non senza fatica diciamo ok il fatto di esporre sia quella di israele che quella della pace ok in tutto questo c'era il capogruppo di forza italia al consiglio comunale di chirico che conosciamo è venuto spesso a milano le news nei nostri studi che aveva la bandiera di israele legata al collo a modi di mantella di mantella prendiamoci chiaro ok e che con tutto il rispetto io non credo sia la miglior maniera per disquisire di queste cose cioè quello per quanto lodevole quello che si vuole per me è equiparabile a buon anno con la trota in mano a Montecitorio ok anche dall'altra parte è una cosa magari non condivisibile anche dall'altra parte però nella stessa maggioranza è stato difficile trovare una quadra esatto perché è dentro la stessa maggioranza che alcuni dei Verdi alcuni del PD Milano fammi un nome chi è che diceva no ad esempio no è che diceva no un po' di diciamo di Dubanza è da Stato da Carlo Monguzzi Carlo Monguzzi sempre lotta vivo e lotta insieme a noi come si dice in questi casi vabbè poi gli chiederemo cosa fa ancora lì in quella maggioranza prima o poi lo devo chiedere intervento comunque da recuperare no cioè si è un dibattito bello acceso bello se segui non sono quei dibattiti molto diciamo volati sull'aria fritta esatto magari appunto di Montecitorio e Palazzo Madama per carità però ci sono certe cose ripeto per quanto lodevole sia per quanto tutto quello che vuoi è un po' come la trotta in mano la bandiera di Israele da Modimantella per me e ricordiamo però alla fine cosa ha deciso il consiglio comunale di fare Palazzo Marino vedrà esporrà sia la bandiera di Israele che la bandiera della pace tra l'altro sempre nel corso del consiglio comunale ti ricordi Fabio adesso alleggerendo un po' ma nemmeno tanto il tenore della discussione tutto tu stai dicendo prima dici di alleggerire poi dici no quindi va bene io ti seguo il tenore della discussione ti ricordi che ieri ti ho fatto vedere la foto dell'incrocio le immagini dell'incrocio di Monforte l'incrocio Tetris ormai viene chiamato Marco Mazzei ieri nel corso di un intervento Marco Mazzei di stasala molto attento alla mobilità sostenibile dolce chiamala come vuoi ha detto se rivolgendosi in maniera neanche troppo palesa all'opposizione basta uscire dalla padagna per avere diciamo confidenza con quel tipo di incroci ah ok perché le grandi città evolute lo diceva quelli della Lega che ovviamente erano contrari immagino che scherzavano il fatto che ci fosse questo nuovo incrocio tutto questo tratteggio cioè per chi è poco avvezzo diciamo a quel tipo di segnaletica potrebbe risultare abbastanza complicato da decifrare una sorta di incrocio taglia lungo i bordi sai che c'è devi seguire le cose no infatti vabbè Mazzei appunto che è intervenuto sulla questione dell'incrocio diciamo incrocio di via di via Monfort va bene comunque continuiamo continuiamo con un po' di musica loro sono i Purple Disco Machine Something On My Mind sempre qui in diretta su Crystal Radio 331 7853 555 scriveteci siamo qua per voi Purple Disco Machine 8 e 17 minuti ben ritrovati qui su Crystal Radio in diretta su Good Morning Milano come tutte le mattine nella seconda parte di trasmissione che bravo che stai diventando è il momento dell'ospite oggi abbiamo ai nostri microfoni Valerio Pedroni consigliere comunale di Milano buongiorno consigliere benvenuto qui in studio con noi grazie ciao a tutti voi e grazie della levataccia so che vi chiediamo a volte di fare questa levataccia tra l'altro nel giorno del suo compleanno non so se possiamo dire tanti auguri allora consigliere tanti auguri consigliere adesso lo mettiamo la levataccia è per mia moglie perché c'è quattro figli da portare a scuola senza di me ti senti in coppa non ce li dividiamo ti senti in coppa Maseri ti senti in coppa è tu che mi fai contattare io vorrei fare un bel messaggio forte a lei così è uno scusa almeno per oggi va bene chiediamo scusa alla moglie di consigliere Pedroni allora tu Lorenzo parlo con te Lorenzo perché tu l'hai voluto fortemente perché hai voglia di capire le dinamiche che avvengono nel palazzo non è giusto? chiaramente ho iniziato a seguire sui social appunto visto che è molto attivo da quel punto di vista ci sono molti argomenti di quali ci piacerebbe parlare prima della pausa proprio abbiamo parlato appunto dell'ordine del giorno di ieri sul fatto della bandiera di Israele della Palestina della pace che si è trovato un accordo a fatica e appunto già fuori onda stavamo un po' parlando di questa vicenda ma sì allora diciamo che la questione intanto è estremamente complessa lo sappiamo tutti io come dire ho apprezzato il fatto che era una mozione della minoranza per cui del centro-destra che si è presentato alcuni di loro con la bandiera di Israele insomma facendo una cosa molto eclatante e quindi la richiesta di esporre la bandiera di Israele fuori dal Palazzo Marino noi abbiamo fatto un emendamento abbiamo chiesto un emendamento alla mozione che invece che accanto alla bandiera di Israele si apposta anche quella della pace come è successo altrove per esempio in Campidoglio io francamente non me la sono sentita di votare a favore di questa mozione anche emendata nonostante l'emendamento lo ritengo doveroso perché per me la bandiera di Israele ci può stare solo a fianco di quella della Palestina sono abbastanza transcianzo questa cosa perché dico bisognerebbe mettere fuori la bandiera della Palestina ogni qualvolta succede un sopruso e purtroppo sono all'ordine del giorno da parte dell'esercito di Israele io credo che due stati devono fare un percorso verso la pace e si può fare solo se la volontà è forte da parte di tutti e due e credo che non sia possibile quando abbiamo due milioni e mezzo di persone stipate in pochi chilometri quadrati a Gaza che è un cielo aperto un carcere a cielo aperto quando abbiamo 800.000 coloni che in territori occupati occupano territori palestinesi con il beneplacito del governo israeliano e seminano il terrore e la violenza su quei territori per cui io credo che o ci stanno tutte e due le bandiere o ci va solo cosa la pace forse su questo ho un'idea un po' radicale però ho fatto un po' fatica e francamente non era l'unico che però aveva idee un po' radicali all'interno della maggioranza in questo caso la minoranza era ben unita nel chiedere assolutamente invece voi eravate un po' insomma però non è la prima volta che insomma la maggioranza si trova al suo interno un po' così disorientata diciamo sono gentile a dire disorientata ma diciamo che noi discutiamo discutiamo siamo una coalizione plurale poi anche all'interno del mio partito a volte abbiamo voci diverse però devo dire che sulle grandi sulle cose importanti siamo sempre andati insieme hanno nominato il partito esatto cogliamo l'occasione esatto visto che settimana scorsa è venuto fuori appunto dalle consultazioni il nuovo segretario del partito democratico della città metropolitana di Milano che era colui che lei sosteneva quindi Alessandro Capelli Alessandro Capelli come come e se cambierà la linea del partito democratico milanese con il nuovo segretario beh intanto io credo che noi abbiamo fatto cinque anni con una segretaria estremamente capace Silvia Roggiani che è una persona totalmente votata alla politica che ha fatto un lavoro eccezionale tra l'altro siamo una federazione un PD metropolitano in cui non abbiamo episodi nessun tipo di episodio come dire equivoco poi in alcuni comuni vinciamo in altri perdiamo però credo che si è fatto un lavoro intanto abbiamo una commissione un dipartimento sulla legalità c'è un'attenzione scrupolosissima sul tema dell'antimafia della corruzione cioè credo che da questo punto di vista siamo una realtà locale molto forte e coesa Alessandro è in piena continuità con il lavoro che ha fatto Silvia che è stata la persona appoggiata da lui a me piace molto perché Alessandro ha una storia tra l'altro anche molto cioè ha attraversato stagioni diverse è una persona che crede fermamente in quello che fa e è riuscito a tenere insieme comunque tante anime da parte del partito tanto è vero che ha stravinto perché è arrivato quasi al 70% per cui è andato molto bene e centuali bulgare diceva qualcuno quasi bulgare però sono contento che non sia stato un congresso una candidatura unitaria ecco diciamo perché le candidature unitarie non fanno bene al dialogo al dibattito per cui benissimo ci sia stato anche uno sfidante Santo Miniti che è una persona assolutamente per bene che sta facendo molto bene il suo municipio per cui alla fine è stata una bella bella sfida ricordiamo Santo Miniti presidente del municipio 6 di Milano quindi si è in punto ad affare non è che secondo me non si dispera più di tanto da fare è da fare ancora non gli manca il lavoro non gli manca il lavoro prima di fare un passaggio sui CPR volevo chiedere la spaccatura sostanzialmente Santo Miniti si legge sui giornali eccetera quello che rappresentava la Viena un po' più riformista diciamo e dall'altra parte Alessandro Capelli diciamo più in linea Schlein mettiamola giù così questa spaccatura questa spaccatura a livello nazionale per quanto riguarda il PD milanese cioè si ritrova ma per niente sinceramente ma è molto più coesa dice lei ma io dico intanto che non mi ritrovo molto in questa divisione per cui Schlein è una sinistra più radicale e Bonaccini rappresentava una sinistra più progressista cioè certamente Bonaccini forse è una sinistra più di governo perché è comunque un personaggio poi la storia di di Bonaccini è una storia che lui arriva da tanto genitori operai padre camionista da una storia molto popolare che poi è riuscito a prendere un'apertura più grande ed essere oggi un grande governatore però anche Lish Lai è un personaggio che io seguo da moltissimi anni che ha posizioni assolutamente radicali sulle cose in cui dobbiamo essere radicali cioè io credo che un partito come il PD non possa non essere radicali sui temi sociali cioè abbiamo un paese che esiste una città che sta vedendo una forbice di diseguaglianze esplodere abbiamo dei temi ambientali enormi e noi ci permettiamo di essere moderati credo che non sia possibile i tre temi Valerio su cui secondo te il PD deve essere radicale in questo momento quali sono i tre temi radicali del PD ma io dico giustizia sociale giustizia ambientale e poi io parlo anche di giustizia intergenerazionale cioè noi oggi dobbiamo essere un po' più coraggiosi anche rispetto alle politiche che danno in mano potere ai giovani è così anche su quello siamo molto timidi abbiamo molta paura e dentro questa paura però non stiamo crescendo una generazione nuova questi tre aspetti non devono essere degli interessi di un partito dovrebbero essere interessi di tutto l'arco costituzionale però non stiamo parlando di come lo dici sempre ad esempio sull'ambiente l'ultima che ci dividiamo destra e sinistra secondo me io l'ho contro la narrazione dell'ambiente che porta a creare due fazioni su un tema in cui se si è diviso non si va da nessuna parte comunque vada tutti e due ci perdiamo poi infatti non facciamo niente è così tu hai nominato i CPR li ho nominati perché in una dichiarazione fatta dal consigliere lei ha detto che il PD il PD Milano non starà zitto sui CPR certo un po' di silenzio però ogni tanto lo sentiamo intorno ai CPR allora togliamo un po' questo silenzio appunto non stia zitto Pedroni dica qualcosa sui CPR è concepibile che in una città come Milano nel 2023 esista un luogo come CPR dove diciamo vengono annientati i diritti basilari della persona ma allora io dico che al CPR bisogna andarci per conoscerlo e capirlo io al CPR ci sono andato con il mio collega Daniele Nahum e la situazione è una situazione che io credo è inaccettabile cioè le persone veramente vanno fuori di test in un CPR perché ci vanno persone che non devono stare in carcere perché una persona che commette dei delitti deve stare in carcere nel CPR ci vanno quelle situazioni queste cose non si può dire però sono quelle situazioni perché è chiaro che se il tema è la detenzione amministrativa cioè tecnicamente quando una persona non può stare sul territorio italiano deve essere espulsa per cui io in quel periodo in attesa dell'espulsione dovrei detenerla per via amministrativa non in una situazione carceraria per cui non posso mettere in carcere una persona che non ha commesso un reato ma un tema di allontanamento amministrativo allora cosa succede dato che i numeri sarebbero altissimi delle persone che andrebbero espulse stando a questa pazzesca legge in cui siamo ancora schiavi di una legge che andrebbe totalmente rivista che è quella sull'immigrazione quindi non ci possono stare tutte le persone ci vanno ci vengono messe quelle persone che le forze dell'ordine identificano come facciano rose come persone che comunque hanno una storia di delinquenza di un certo tipo e per certi versi meglio tenerli in un luogo chiuso e cercare di spellerli veramente il tema è quello che non funziona per niente perché quello che poi succede è che nella gran parte dei casi non si riesce a rimandarle a casa per mille motivi accordi bilaterali perché spesso non si capisce neanche da dove venga quella persona vengono rimesse in libertà molto molto più arrabbiate di prima per cui quello che si ripete è quella storia di recidiva che abbiamo trattato già nei carceri quando non applichiamo delle formule mitigative e riparative che arrivano più arrabbiate di prima e commettono i delitti per cui a questo punto si possono meritare il carcere per cui finalmente l'obiettivo di mandarli in carcere l'abbia raggiunto tanto che non è l'obiettivo quello di mandare in carcere e da questo punto di vista abbiamo studiato delle situazioni io intanto ne parlavo anche con gli amici della Camera del Lavoro ed altri ci piacerebbe fare un'iniziativa in cui proporre delle formule anche per queste persone che dobbiamo anche dirci c'è un tema di sicurezza non possiamo metterci le fette di salame davanti agli occhi non voglio nemmeno fare quello buonista per cui tutti fuori tutti tranquilli tanto non succede niente sappiamo che non è così per cui ci sono persone che hanno un atteggiamento di prevaricazione verso i più deboli perché la sicurezza per me è quella difesa dei più deboli verso da parte dei più forti che hanno un atteggiamento sbagliato allora dico applichiamo delle formule riparative che esistono noi abbiamo delle modalità per cui possiamo fare trascorrere del tempo le persone che hanno commesso dei litti che hanno dei comportamenti in un certo tipo per avere anche un obiettivo educativo e qui credo che dobbiamo puntare a quello che significa avere in mente che c'è anche un tema di sicurezza chiarissimo chiarissimo poi saremo a vedere la risposta della rete do CPR che ci segue tanto quindi Pedro ne arriverà sicuramente la risposta anche da loro perché ci seguono so che sono sempre qua a seguirci però il tema per me era quello che questo governo ha parlato di ampliare fino a 180 giorni permanenza allora dico se per un tempo limitato gli attuali 60 giorni 90 giorni può essere 90 giorni per 180 imparano di portarlo a 18 mesi 18 mesi per cui diventare un tempo così lungo per cui se in qualche modo possiamo dire che turandoci il naso accettiamo la situazione attuale anche se non ci piace immaginare di estenderla così tanto io credo che a quel punto stiamo pienamente ledendo l'articolo 13 della costituzione questo chiarissimo direi che più chiaro non poteva essere noi continuiamo continuiamo ancora a parlare con il consigliere Pedroni continuiamo dopo una piccola pausa appunto siamo arrivati alla mezz'ora quindi piccola pausa con un po' di musica qualche consiglio come dico sempre per gli acquisti e poi torniamo comunque sempre qui su Cristal Radio con ancora il consigliere Pedroni e tante domande e parliamo anche di sicurezza parliamo anche dell'incorcio di Via Monfort so che oggi ne parlano tutti ne parlano tutti quindi non possiamo esimerci dal parlarne allora andiamo avanti adesso è Ben Harper Ground or Down 8.29 Cristal Radio 8.38 minuti di nuovo qui su Cristal Radio ancora qui in compagnia del consigliere comunale Valerio Pedroni e so che hai delle domande caro il mio Lorenzo abbiamo accennato il discorso sulla sicurezza quindi volevo sapere il suo pensiero sulla nomina di Franco Gabrielli la destra parla di commissariamento ne parliamo spesso Lorenzo non dorme la notte per questa cosa per me ha un valore simbolico forte la nomina ma allora guarda io intanto credo che non sia un commissariamento di due assessori ai servizi sociali e alla sicurezza dato che la nomina è sulla sicurezza e sulla coesione sociale perché io credo che noi oggi abbiamo e lo dico veramente credendo quello che sto dicendo che sono due tra i migliori assessori che abbiamo in giunta Lamberto Vertolei sul servizio sociale Marco Grelli sta facendo un lavoro enorme si formerà un tavolo se non sbaglio con anche Gabrielli il sindaco Gabrielli è una figura che il sindaco ha individuato perché ha evidentemente una storia molto importante che possa dare delle suggestioni dei consigli che possa affiancare questo percorso e va benissimo perché guarda io figurati anche quello di cui abbiamo parlato prima io credo fermamente sul tema che noi oggi la sicurezza la costruiamo innanzitutto abbassando le diseguaglianze perché evidentemente se abbiamo un paese una città in cui da una parte ci sono le persone ricche ricchissime e dall'altra ci sono delle file sempre più lunghe alla mensa dei poveri persone veramente povere radicalmente povere evidentemente si alzerà la storia del conflitto sociale ma questo lo vediamo in tutte le grandi metropoli per cui il primo modo per creare sicurezza è quello di abbassare questo livello di conflitto che le diseguaglianze creano poi dall'altra parte c'è un tema di pericolosità in alcune zone in alcuni momenti del giorno non dobbiamo nascondercelo nonostante Milano e dobbiamo dirci anche questo si è enormemente migliorata da quando avevamo lo sceriffo decorato in cui Milano si svuotava c'era il coprifuoco la sera e lui pensava di creare sicurezza sgomberando dei gruppetti di Rom che giravano dalla città non so se vi ricordate ecco io c'ero in quel tempo quello era il suo modo di interpretare la sicurezza che non creava non faceva nulla se non addirittura aizzare un gruppetto che se non delinqueva perché faceva l'emosina gli veniva voglia di farlo ecco oggi la situazione è sicuramente migliorata però è innegabile che dentro questo livello di città come oggi il tema c'è allora io credo che noi dobbiamo lavorare in modo molto forte sul tema delle eseguaglianze con un progetto di sviluppo economico poi se abbiamo tempo parliamo anche della commissione speciale sull'economia civile di cui sono presidente sono un po' il mio orgoglio però credo che ci sia anche un'attenzione al presidio il presidio ci vuole da questo punto di vista io ho depositato e è stato approvato un ordine del giorno un annetto fa anche con il mio collega Michele Albiani che è il mio collega del partito democratico presidente della commissione di sicurezza in cui noi chiedevamo che al corpo dei vigili venga somministrata una formazione sulla mediazione dei conflitti sull'intercettazione precoce della violenza domestica per creare quell'idea di vigile di quartiere che non è il vigile rambo il vigile con la mitragliatrice che mette tranquillità perché ha un armamentario infinito alcuni quando si vedono scendere con questi cac di cargo immagini che lanciano una granata esatto bravissimo quando vai ferma il bambino in bici boom una granata quando vai a Gerusalemme ritornando all'esempio dell'inizio vedere tra l'altro ragazzini con la mitraglia non è che ti metta proprio particolare senso di sicurezza invece io credo che è importantissimo che sappiano leggere il conflitto spesso parliamo di ragazzini di seconda generazione che arrivano dalle periferie arrabbiati contro tutto e tutti che se possono combinare un guai lo fanno ecco io credo che su quei ragazzini non è che li prendiamo manganellate cioè noi dobbiamo imparare a parlarci questi ragazzi perché se non ci parliamo le cose peggiorano ecco io credo che questo sia un passaggio dall'altra noi dobbiamo integrare le nostre forze con quelle delle altre forze statali perché la polizia locale di Milano ha il principale mandato sulla sicurezza statale per cui sulle multe questo è il principale mandato poi è un corpo di vigili molto ampio abbiamo anche la polizia investigativa per cui vengono fatte anche delle indagini però chi dovrebbe gestire questo tipo di sicurezza sono altre forze io credo che quello che dobbiamo fare noi è il presidio il presidio del territorio basterebbe quello per avere una città più tranquilla è un lavoro che stiamo cominciando a fare credo che quell'ordine del giorno sia un passo nella direzione giusta ha nominato la commissione speciale dell'economia civile e responsabile di cosa la trattate e poi mi diceva appunto lei è molto orgoglioso di questa commissione che presiede giusto? beh dovremmo fare se volete poi lo facciamo più avanti una puntata solo su questo tema perché è un tema molto però te la dico proprio in maniera pop ecco cioè noi oggi abbiamo una città che ha costruito uno sviluppo della Milano che cresce e aiuta se volete è stato anche il primo anno di mandato del sindaco Sala cioè Milano cresce con uno sviluppo potente anche dal punto di vista finanziario attrazione finanziaria e dall'altra parte ha bisogno di investire moltissimo sul welfare perché questo modello di sviluppo crea dei costi sociali crea degli scarti sociali famoso modello Milano ma diciamo che è un modello dicono che zoppica diciamo che è un modello che ha costruito il successo della città non solo della nostra ma anche di altre città europee che però oggi evidentemente va rivisto e io credo che il modo di vederlo è pensare immaginare è un modello di sviluppo che non crea i scarti sociali in cui il tema dell'inclusione sia fondativo poi questo in maniera molto concreta non è filosofia cioè vuol dire puntare molto sull'imprenditoria sociale sulla cooperazione sociale sulla finanza etica sul modello di imprenditoria civile in cui la CSR cioè il tema della responsabilità sociale gli ESG come vengono chiamati cioè il tema dell'attenzione all'ambiente al sociale e al governo cioè come tratto i dipendenti sia non un modo di fare washing ma sia un asse strategico ecco e io credo che noi possiamo fare delle cose molto importanti questa commissione comincia a dire che il Comune di Milano vuole essere laboratorio di questo modello poi le cose da fare sono tantissime però abbiamo cominciato a mettere uno strumento di visione politica che io credo sia un passo significativo quindi la cosiddetta Milano a due velocità comunque cioè constatiamo che è così ecco noi non funziona la Milano a due velocità per cui usciamo da questa logica oppure il tema della sicurezza l'avremo ancora più forte il tema della sicurezza sarà ancora più forte il tema delle file davanti alla mensa dei poveri della carica sarà ancora più lungo ecco per cui non ne usciamo e tensione sociale alta come sempre in questi casi bene allora so che c'è un altro tema che ti aveva colpito quando abbiamo deciso di chiamare l'assessore che era una proposta che ha fatto appunto il consigliere sulla divisione appoggia una petizione che sostanzialmente sostiene di rivedere il calendario scolastico perché come sappiamo va bene oltre anche diciamo la funzione di consigliere quindi mi piace questa cosa che uno pensa in grande complimenti complimenti al consigliere abbiamo il calendario più lungo d'Europa insieme alla Danimarca e soprattutto anche riferimento alla questione delle diseguaglianze perché poi in quei tre mesi passa a casa cosa diceva questa proposta? beh siamo sempre lì è una petizione che è stata messa in campo da WeWord con Mamma di Merda che adesso il titolo può sembrare un po' così ma è una bellissima realtà che sta facendo cose molto interessanti anche sul fronte comunicativo ma è una cosa molto semplice cioè noi abbiamo un calendario in cui ci sono 200 giorni tutti attaccati che è già tantissimo e poi abbiamo tre mesi di blocco 14 settimane in cui quello che succedeva una volta era che c'erano gli oratori c'era la mamma che rimaneva a casa insomma c'era un tipo di contesto andava con i nonni al mare chi poteva andare con i nonni al mare ma prima ancora sono le ragioni perché c'è questa cosa e perché i ragazzini dovevano andare a dare una mano ai genitori che ai padri spesso che lavorano nei campi per cui nasce dentro questa storia oltre che oggi che viviamo una situazione completamente diversa il tema è questo che se te lo puoi permettere ai tuoi figli in quei tre mesi fai fare delle cose splendide campus in inglese li mandi all'estero gli fai fare delle cose per cui tornano a settembre che hanno già un'altra velocità se non hai le possibilità e ahimè questo vale a Milano in tutti i tanti in tutta Italia è molto peggio che a Milano vale molto di più tu rimani congelato per tre mesi in cui quello che fai se va bene è il compitini delle vacanze se va bene perché di solito non fai nemmeno quelle e a settembre ti presenti che hai perso un terzo di se va bene di quello che hai imparato l'anno precedente questo non vuol dire lo dico chiaramente la petizione è molto chiara che devono stare dentro le classi al caldo dei cambiamenti climatici ma vanno pensati dei piani organizzati dalla scuola soprattutto all'open air immaginando dei campus con degli investimenti fatti insieme alla cooperazione sociale all'associazionismo perché tutti i bambini e bambine ragazzi e ragazzi possono fare delle cose interessanti belle perché poi quello che fai d'estate ti rimanta la vita perché poi diciamo hai detto la parola che fa rizzare i capelli molto investimenti non ci sono i soldi non è vero i soldi in questo campo volendo ci sarebbero cioè c'è la possibilità di fare cooperazione appunto dicevi nel terzo settore c'è tanto che può aiutare in questo sviluppo di questa idea di un calendario più aperto diciamo più lungo e più variegato anzi mi sembra che questa sia la proposta certo ma diciamo che intanto va ripensato alla scuola oggi perché per come è la scuola fa quella teleparty per cui noi adesso l'abbiamo presa sul tema dell'estate ma se la penso sul tema dei pomeriggi cioè noi oggi abbiamo il 50% nel nord l'80% nel sud che il pomeriggio anche agli elementari non c'ha la proposta e oggi in cui noi auspichiamo che la mamma lavori ma non solo per un tema di reddito ma perché lo sviluppo umano sia la mamma che il papà devono lavorare cioè dentro questo modello non sta più insieme la proposta del genere per cui è chiaro che andrebbe tutto rismontato purtroppo non possiamo farlo perché viviamo in un paese in cui i governi durano un anno e mezzo e tu non puoi avere un anno e mezzo il ministro dell'educazione sperando che ti riformi la scuola ecco per cui o si cambiano le regole o rimaneremo schiavi di noi stessi ma riusciremo mai a cambiare queste regole perché non sei il primo che ci dice dovremmo riuscire a cambiare le regole chiamatevi tra di voi io ero a favore di un referendum qualche tempo fa che forse non è stato proposto da una persona particolarmente simpatica non so se vi ricordate si chiamava Italicum che aveva sicuramente tante magagne ma perlomeno avrebbe garantito un po' di stabilità a questo paese io sono molto sensibile a questo tema della stabilità è l'unica maniera per avere riforme strutturali poi piacere o non piacere chi c'è su però il cosiddetto governo di legislatura forse quindi ci teniamo il governo che c'è adesso consigliere va bene allora non esagerare ecco lo facciamo appena dopo la riforma costituzionale è questo il problema va bene chiudiamo allora così chiudiamo con una risata io ringrazio tantissimo il consigliere Pedroni grazie di essere stato con noi grazie a voi dell'invito speriamo di rivederci magari appunto riuscendo a cambiare cambiamo qualche regola ci sto la vengo con voi e cambiamole in maniera bella cioè non andando con i martelli con i forconi come voleva qualcuno cioè facciamolo appunto attraverso le istituzioni che appunto sono sensibili a questi temi quindi davvero grazie mille al consigliere Pedroni grazie e noi noi continuiamo fra poco perché ci salutiamo perché stiamo per chiudere quindi mandiamo a Jennifer Lopez che ci saluta e poi torniamo per i saluti appena dopo punto Jennifer Lopez Cristal Radio 8.49 minuti 331-78-535-555 a Grazie per la visione!